Senti cosa arriva, attenzione, senti come sale in questo momento, come sono le mani, come sono le mani, come sono tutte le mani, come sono tutte le mani, come sono tutte le mani, come sono le mani, il nostro canale, iرanzo il fondo, come sonti chiassi come sale in questo momento,